buongiorno a tutti amici dell'orto di sara in questo video vi elencherò 10 varietà di euforbia buona visione il genere euforbia presenta piantine di diversi portamenti ci sono euforbia dal portamento eretto a cestito o crestato sono caratterizzate dalla presenza di un lattice bianco in tutta la pianta se viene rotta o incisa leggermente questo lattice è molto irritante per la pelle e tossico per i nostri amici animali quindi fate molta attenzione le euforbia si suddividono in esemplari maschio e femmina l'esemplare femmina si differenzia da quello maschio perché dopo la fioritura e la fecondazione produce i frutti contenenti i semi mentre l'esemplare maschio si ferma la fioritura le specie euforbia vanno tenute in un luogo molto luminoso ma evitando troppo i raggi diretti del sole che tendono ad ingrigiarle bisogna evitare di esporle a temperature sotto gli 8 gradi quindi in inverno vi consiglio di ripararle vanno annaffiate moderatamente nel periodo primaverile estivo solo quando il terreno risulta completamente asciutto mentre in inverno bisogna sospendere completamente le annaffiature evitate assolutamente ristagni idrici per non causare marciumi vi consiglio quindi di usare un terreno ben drenante e ricco di inerti euforbia obesa questa bellissima succulenta nota anche come pianta da baseball è originaria del madagascar ed è apportamento globoso che nella crescita assume una forma colonnare il colore del suo fusto può variare dal verde scuro al verde grigio con costolature poco sporgenti e totalmente prive di spine all'apice produce piccoli fiorellini gialli euforbia meloformis succulenta dal portamento solitario che può anche assumere una forma accestita producendo tanti polloni dal fusto principale è originaria del sudafrica e il suo fusto globoso di un verde scuro presenta 8 10 costolature verticali ben definite e prive di spine la fioritura dell'euforbia meloformis avviene all'apice della pianta producendo dei piccoli fiorellini giallo verde brillante questa bellissima varietà non deve mancare nella collezione degli appassionati di piante grasse poiché è una piantina che va molto di moda quindi per chi la segue consiglio subito di acquistarla anche perché non vi deluderà riguardo la sua bellezza euforbia e chinus questa succulenta è originaria del marocco ed è un arbusto succulento e spinoso il suo fusto di un verde intenso ha un portamento colonnare con costolature ben definite dai margini grigi che sembrano lignificati dai quali fuoriescono rigide spine grigiastre questa varietà si ramifica abbondantemente alla base del fusto e da ognuno di essi nel periodo di fioritura genera piccoli fiori rossastri euforbia orrida crestata questa varietà di euforbia crestata è originaria del sudafrica ed è una pianta succulenta arbustiva che col tempo tende ad accestire alla base il suo fusto verde bluastro presenta molteplici costolature irregolari che possono assumere forme ondulate e presentano rigide spine brunastre all'apice la sua fioritura avviene in primavera producendo piccoli fiori giallo o viola intenso all'apice della pianta euforbia mammillaris variegata questa varietà cultivar è una succulenta generalmente accestita alla base i suoi steli sono eretti con variegature dal colore bianco verdastro presenta costolature ben evidenti dalle quali spuntano brunastre spine rigide all'apice della pianta genera piccole foglioline verdi e dal periodo invernale al periodo estivo produce piccolissimi fiorellini gialli è di facile propagazione staccando una talea dalla pianta madre in primavera estate lasciando asciugare bene qualche giorno e interrando verticalmente nel terreno euforbia mili chiamata comunemente spina di cristo questa bellissima euforbia è originaria del madagascar ed è un piccolo arbusto sempre verde e semi succulento si presenta comportamento eretto e con un fusto succulento e spinoso dal quale si sviluppano foglie verdi e ovali che a differenza del fusto non sono succulente la pianta può raggiungere anche due metri di altezza e produce bellissimi fiorellini rosso o gialli accompagnati da un sottile stelo allungato sopporta senza problemi il clima estivo caldo ed asciutto però si sviluppa al meglio se annoffiata regolarmente euforbia debili spina è originaria dello zambia nel sud africa e si presenta con abbondanti cespugli ramificati che crescono sulle rocce calcare il suo nome deriva da debilis che significa debole e spina e sta a significare spina debole infatti questa succulenta ha pochissime spine e molto corte a inizio primavera genera bellissimi fiorellini gialli lungo i suoi steli euforbia enopla originaria del sud africa questa euforbia ha un portamento eretto che tende a ramificare col tempo i suoi fusti sono di un verde brillante definiti da costellature verticali ricoperte da numerose spine rosse tendenti al viola che diventano marroni una volta cresciute questa varietà può raggiungere anche un metro di altezza e nel periodo di fioritura produce dei piccoli fiorellini gialli euforbia buple orifolia originaria del sud africa questa succulenta con il tempo sviluppa un fusto caudici forme a forma di pigna che può raggiungere 10 centimetri di diametro e fino ai 20 centimetri di altezza il fusto presenta tubercoli disposti a spirale di un colore verde o marrone le sue foglie verdi sono di forma ellittica e allungata che nel periodo di riposo vegetativo la pianta lascia cadere per ridurre al minimo la perdita di acqua per poi rigenerarle nel periodo primaverile è una pianta rara e poiché ha questa particolare forma d'ananas è molto apprezzata dai collezionisti euforbia in ermis succulenta originaria del sud africa ha una crescita molto lenta ma molto apprezzata dai collezionisti dal suo fusto di forma caudici forme fuoriescono numerose ramificazioni a forma di serpente cilindriche e affusolate somiglianti ai capelli di medusa infatti è chiamata anche testa di medusa piccole protuberanze ricoprono interamente suoi fusti con puntinature bianche che danno un bel risalto con il verde del fusto queste puntinature bianche sono causate dalla caduta delle foglie bellissimi fiorellini bianco crema fuoriescono dall'apice dei fusti in primavera estate siamo arrivati alla conclusione di questo video vi ricordo di iscrivervi al canale e di visitare la mia pagina facebook piante grasse succulente dove ci sono tante informazioni sulle piante grasse grazie a tutti al prossimo video ciao grazie 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 grazie